Il nostro protagonista si è attaccato a una scusa molto difficile. Io ti voglio, io tu non mi vuoi, voglio sentire il cellulare respirato a questo senso, alla nostra relazione. Il nostro protagonista si è attaccato a questo senso, alla nostra relazione. Il nostro protagonista si è attaccato a questo senso, alla nostra relazione. Il nostro protagonista si è attaccato a questo senso, alla nostra relazione. Il nostro protagonista si è attaccato a questo senso, alla nostra relazione. Grazie. 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 Grazie.